Buongiorno a tutti e ben ritrovati qui su IT Support. Io sono Doc e quest'oggi parliamo di Windows 365, la soluzione direi forse più innovativa dell'ultimo decennio che si propone di offrire alla sua clientela un servizio di computer in cloud. Pazzesco, vero? Ma come funziona all'atto pratico questo Windows 365? A quale clientela è rivolto e soprattutto quanto costa? Seguitemi nei prossimi minuti e vi svelerò tutti il retroscena di questo nuovo ed interessantissimo progetto targato Microsoft. Ma prima di cominciare, come sempre, se non l'avete ancora fatto, vi invito ad iscrivervi al canale per sostenerlo attivamente. Per voi è un singolo e unico click, ma per noi significa davvero moltissimo. Ha maggior ragione che attivando la campanellina delle notifiche riuscirete a rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni. Attivo già dal 2 agosto di quest'anno, Windows 365 si propone di dare vita ad una nuova categoria di dispositivi, ovvero i cloud computer. E non preoccupatevi se non l'avete mai sentito nominare, perché non siete i soli? Il lancio di Windows 11 ha letteralmente mandato invisibilio il web e clissando praticamente nella sua interessa questo progetto che, ribadisco, a parer mio è uno dei più interessanti dell'ultimo decennio. Ma vediamo più da vicino di che cosa si tratta. Anzitutto partiamo da una piccola nota di demerito, nulla di particolarmente grave, ribadisco, ma una questione più che altro alla quale Microsoft secondo me avrebbe dovuto porre maggiore attenzione, ovvero quella che riguarda il nome del progetto medesimo. Perché Windows 365 potrebbe essere facilmente confuso, soprattutto da un'utenza magari più inesperta, con il totalmente diverso Microsoft 365. Il servizio, lo ricordiamo, che permette a tutti i suoi abbonati di utilizzare liberamente l'intero pacchetto Office, previo appunto il pagamento di un canone mensile o annuo. Qui si sta parlando invece di tutt'altra cosa, ovvero di un servizio di computer decentralizzato al quale è possibile accedere liberamente da qualsiasi luogo in qualsiasi momento e attraverso qualsiasi dispositivo. È sufficiente una banalissima connessione ad internet. Vale a dire che l'intero sistema operativo, quindi comprensivo anche dei documenti, foto, musica, programmi, applicazioni e quant'altro, non si trova fisicamente installato, non è presente all'interno del mio dispositivo, bensì è su di un cloud che è a sua volta ospitato all'interno dei data center della Microsoft, dei server della Microsoft. Questo significa banalmente che io posso iniziare a lavorare ad un progetto dal mio computer, poi andare, che so, a casa di mia madre e continuarlo liberamente sul suo computer, piuttosto che dall'ufficio, piuttosto che dal tablet o dal cellulare. Perché l'intero sistema operativo, ribadisco, e quindi anche il mio progetto, non si trova nel mio computer, in quello di mia mamma, in quello dell'ufficio, nel tablet o nel telefono, ma su di un cloud che è al sicuro nei server Microsoft. A questo punto molti di voi si staranno domandando quale sia effettivamente il vantaggio, il plus, di utilizzare Windows 365 piuttosto che un normalissimo computer portatile. Perché sì, anche con un computer portatile, appunto, si può iniziare a lavorare ad un progetto in un luogo, poi spostarsi altrove e continuare ugualmente a lavorarlo. La differenza sta solo ed esclusivamente in una questione di sicurezza, di comodità, diciamo. Ovvero che quando si utilizza un dispositivo, sia il suo computer portatile, fisso, tablet, telefono e via discorrendo, si dà per scontato che nella maggioranza dei casi, nella stragrande maggioranza dei casi, l'intero sistema operativo, e quindi anche i documenti, i file su cui andiamo a lavorare, si trovano fisicamente installati, sono presenti, sul dispositivo medesimo che abbiamo in mano. E quindi, laddove dovessero rubarcelo, ci andassimo a versare sopra del caffè, piuttosto che dovesse cadersi in terra esplodendo in mille pezzi, a meno che non abbiamo un backup completo di nostri dati, andremo a perderli, con un conseguente costo di recupero, costo di riparazione, costo di manutenzione, oltre a una perdita di tempo abbastanza importante. Bene, questo con Windows 365 è totalmente impossibile che accada, perché il dispositivo che sceglieremo di utilizzare sarà null'altro che un vettore, un mezzo utile solo ed esclusivamente a visualizzare ed interagire con il sistema operativo, il quale sarà a sua volta al sicuro su di un cloud ospitato nei server Microsoft. E quindi, se anche il nostro computer dovesse esplodere in miliardi di microscopici pezzettini, non ce ne fregherebbe assolutamente niente. Ci basterà cambiare dispositivo e i nostri dati sarebbero perfettamente tutti lì al loro posto. E per questo stesso motivo poi anche la questione legata agli aggiornamenti e alla sicurezza data dall'antivirus è totalmente centralizzata e gestita in maniera univoca da Microsoft, escludendo quindi l'utente finale da tutti quei lavori di manutenzione che sono obbligatori quando si ha a che fare con un normale computer. A seguire poi altro enorme vantaggio a parer mio è che con Windows 365 l'utente finale potrà scegliere liberamente le prestazioni del suo computer virtuale, modificandole anche ovviamente in un secondo momento. Questo cosa significa? Significa che se voi oggi andate ad acquistare un computer di fascia bassa, quindi poco potente perché magari vi serve solo per leggere le mail, guardare qualche film in streaming o navigare internet e un domani improvvisamente vi trovate davanti alla necessità di dover elaborare qualche immagine, montare qualche video fatto magari con la GoPro, piuttosto che in generale a vista la necessità di maggiore prestazione, l'unica soluzione a meno di mettere in mano al portatile e aumentare la potenza, cosa che in realtà c'è sempre poca possibilità di fare, nella stragrande maggioranza dei casi dovreste vendere quel computer e andarne ad acquistare un altro con tutto ciò che ne consegue, perdita di tempo e perdita di soldi, oltre appunto a dover cercare qualcuno che acquisti il vecchio e trovare il nuovo che soddisfa le vostre necessità. Ebbene, con Windows 365 la potenza non sarebbe più subordinata all'hardware del computer, quindi al processore, alla RAM, alla scheda video, ma solo ed esclusivamente al pacchetto che avrete scelto in fase di registrazione. Questo perché, lo ribadisco nuovamente, il dispositivo che andrete ad utilizzare servirà solo ed esclusivamente per visualizzare, accedere al sistema operativo che si troverà in cloud salvato sui data center della Microsoft. Un po' come se invece di acquistare un'auto con tutti i problemi che ciò porta con sé, decideste di noleggiarne una seconda delle vostre necessità. Abitate a Roma, smart e parcheggiate pure nella bucchetta delle lettere, dovete macinarvi 200 km al giorno, tac, SUV ibrido, zero costi di pieno e tanto di quello spazio libero che potrete pensare di subaffittarlo. Per questo, nel caso anche il vostro computer non fosse particolarmente potente, non ci sarebbero problemi, perché potreste collegarvi liberamente ad un computer estremamente più potente che si trova nei data center Microsoft. E per concludere, un'ultima chicca davvero non indifferente riguarda il fatto che all'interno di qualsivoglia pacchetto andrete a selezionare sarà compresa anche la suite di Microsoft Office al completo, quindi compresa anche di Access, Project, Visio e quant'altro, la quale, lo ricordiamo, ha un costo di ben 70 euro annui a licenza, quindi un altro plus assolutamente non indifferente. Tuttavia, dal momento che, come si suol dire, non è tutto oro quello che luccica, anche Windows 365 presenta una serie di difetti. Il primo dei quali, più lampanti, direi anche maggiormente critico forse, riguarda il fatto che, per l'appunto, è totalmente online. Di conseguenza, dovesse capitarvi la sfortuna di rimanere senza internet, vi ritrovereste anche senza computer e quindi senza lavoro. Di conseguenza, sono dell'idea che diverrà un cardine fondamentale, un punto fermo dell'esperienza utente, quella di doversi munire di una connessione ad internet alternativa, vuoi mo' che sia un hotspot da cellulare piuttosto che una normale saponetta wifi, ma in ogni caso, ribadisco, dovrà diventare una questione di cui tenere tassativamente conto per evitare questo genere di problematiche estremamente fastidiose. E a seguire, secondo problema, anche se più in realtà in questo caso sarebbe meglio parlare di una restrizione, riguarda il fatto che attualmente Windows 365 è disponibile solo ed esclusivamente per un'utenza business, quindi a livello aziendale. Anche se in realtà sono dell'idea che questa cosa non varierà in futuro, soprattutto per via della tipologia di prodotto che stiamo trattando e anche altrettanto il prezzo a cui viene proposto. Perché in realtà è qui che poi volevo andare a parare. Dalla pagina ufficiale di Microsoft relativa al prodotto Windows 365 leggiamo chiaramente la possibilità di poter optare per la soluzione business dedicata alle piccole e medie imprese o quella enterprise per le grandi aziende. Il primo dei piani disponibili riguarda per l'ambito business e viene a costare 28,20€ al mese a singolo utente. Di certo abbordabile, ma bisogna fare attenzione alla configurazione del nostro computer virtuale, ovvero in questo caso ci verrà fornito un sistema dotato di due virtual CPU, 4GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Nulla di particolarmente prestante, di conseguenza mettiamo il caso che volessimo orientarci su qualcosa di un pochino più performante, potremmo optare per la seconda opzione che, al costo di 37,30€ al mese a singolo utente, andrà a raddoppiare la RAM e portandola ad 8GB totali, mantenendo però inalterate le altre specifiche. E quindi, tirando le somme, possiamo dire che per il momento Windows 365 non è affatto una soluzione adatta per coloro che hanno necessità di un'elevata potenza di calcolo, ma risulta perfettamente in linea con le esigenze dell'impiegato medio, il quale, oltre ad un utilizzo contenuto del pacchetto Office, del gestionale aziendale e di davvero pochi altri programmi, non ha oggettivamente bisogno di una chissà quale potenza sotto al cofano. A seguire poi il problema della sicurezza, e attenzione, lo dico volutamente con questo tono perché è una questione legata veramente molto all'interpretazione personale, in quanto su Windows 365 Microsoft ha deciso di utilizzare il paradigma, il modello di sicurezza denominato Zero Trust, che, come abbiamo detto, oltre a garantire l'archiviazione delle informazioni personali dell'utente su un cloud di loro proprietà, integra l'autenticazione multifattori per verificare singolarmente tutti gli accessi o i tentativi di accesso ad ogni singolo cloud. Nel portale di amministrazione, poi, a gestione quasi esclusiva dell'IT aziendale, sarà possibile gestire i permessi di ogni singolo utente ed il supporto di Microsoft Defender for Endpoint si occuperà della protezione del sistema contro attacchi esterni. I dischi di memoria saranno poi criptografati e non accessibili all'esterno, soprattutto se da un utente privo di autenticazione. E infine, questo sistema di cloud e PC permetterà la quasi totale abolizione delle connessioni VPN, le quali nell'ultimo anno sono state di fatto la colonna portante dello smartworking mondiale. E quindi, dal momento che Zero Trust promette ottimi risultati dal punto di vista della sicurezza, che cosa intendevo dire con quel è molto personale come interpretazione? Beh, banalmente per via del fatto che, avvalendosi del servizio di Windows 365, di fatto si aprono le porte della propria azienda a Microsoft, la quale diverrebbe in grado di muoversi liberamente all'interno di essa come meglio crede. E questo, dal momento che sono molte le persone che scegliono espressamente di non utilizzare nemmeno gli assistenti vocali per paura di una qualche violazione della privacy o furto di dati sensibili, ehi, la problematica è lampante. Ad ogni modo, nonostante Windows 365 sia per ora, lo ribadisco, un prodotto esclusivamente business, caso mai un domani Microsoft dovesse improvvisamente cambiare idea, credo che anche dal punto di vista dell'utenza privata ci potrebbero essere sbocchi molto interessanti. Questo perché mi è capitato svariate volte in passato di avere a che fare con utenti Apple, i quali mi chiedevano un metodo facile e veloce per riuscire a integrare Windows nei loro sistemi. E per quanto Bootcamp o Parallels siano sicuramente ottime soluzioni, vanno installate, configurate e gestite, cosa che se non sei un tecnico o se non ne mastichi non è poi facile come bere un bicchier d'acqua. O magari anche soltanto tutti quegli utenti che per brevi periodi di tempo hanno bisogno di una macchina più prestazionale della loro per portare magari a termine un progetto straordinario, potrebbero essere interessate a questo tipo di servizio. Insomma, le possibilità sono veramente molte e per un prodotto agli albori come lo è Windows 365 si prospetta davvero un'eccellente possibilità di crescita. Fermo restando avrò che Microsoft riesca a tutti gli effetti a cavalcare l'onda senza finirne travolta. E titoli di coda, io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto ascoltandomi, spero vivamente con interesse, ma ditemi cosa ne pensate di questo Windows 365? È un'innovazione a stiamo andando verso il futuro o sarà un immenso buco nell'acqua? Ma soprattutto siete curiosi di provare di vedere le possibilità di questo nuovo sistema Microsoft in prima persona? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, sono sempre curioso di sapere la vostra opinione. E mi raccomando, se il video vi è piaciuto ricordatevi di spolliciarlo prima di andare via. Io sono Doc, questo è IT Support e noi ci vediamo alla prossima puntata. Non cambiate canale. Grazie a tutti.